L'incidente della mattinata del giovedì 30 settembre, poco dopo le 8.30, sulla strada provinciale 4.60 nel comune di Lombardore, coinvolte tre vetture, una Fiat Tipo Station Wagon, una Volkswagen Polo e una Lancia Musa. L'impatto è stato violento e la porsa è ribattata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura, l'ambulanza della Croce Rossa, l'elicottero Drago 51 dei vigili del fuoco, l'elisoccorso del 118, i carabinieri del nucleo radiomobile di Veneria Reale e i tecnici dell'ANAS. Il bilancio è di quattro persone coinvolte, lievemente ferita una giovane, la dinamica al vaglio dei carabinieri. Il tratto stradale è stato chiuso in entrambe le direzioni. Grazie. 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 Grazie.